... Beh ragazzi il mio marraffe oggi siamo qui su... EXPOSURE Non so assolutamente come si dica Però che grafica è mai questa? Ma che schifo è? Allora, allora abbiamo una telecamera in mano? Oh mio, si può anche zumbare Oh mio Dio Guardate sto per morire Wow Oh mio Dio un termo Ooooooooooo Cos'è questo? Che cacchio è? Un cartone? Cos'è? Tra l'altro Non so nemmeno se è un order Ma una grafica orribile Non ci... Cioè, se voi Non ci capite niente io ancora di più Però questa dovrebbe essere una cucina No? Quello è un forno Ma ci sono queste righe a caso Boh... Questi puntini blu Scatole! Quello che mi serviva Uh, un mobiletto che bellino Una porta! Questa è l'uscita? WTF? Possiamo fare anche gli scatti Interact E come si fa? Non mi ricordo i pulsanti Così Poi fa rumore quando cammina Ma che cacchio di telecamera hai? Eh Interact ma non so i pulsanti Non me li avete detti? Se magari me li dite Io sto provando a cliccare tutti i pulsanti Ma non per fare i selfie imbecille Ah! Con il mouse Che cacchio! Io stavo provando con la tastiera Ma è chiusa! Tante è chiusa Cosa mi dici Interact? Questa è finta! Non si può proprio cliccare niente Boh! Così possiamo correre Possiamo anche correre Però non si vede niente Una lavatrice! Ma che cacchio! Ah oddio pensavo fosse un morto Invece solo un divano Almeno spero sia un divano Poi non lo so eh Un faro della luce! Ma guardate che bella luce che fa! Oh mio dio! Ma che è sta luce? Tutta dritta! Non finisce mai! Ma che cacchio! Allora! Non so assolutamente cosa bisogna fare Non so se è un horror quindi Mi dovrò cagare in mano? Speriamo di no! Ah la chiave! Oh la chiave è trovata! Che cosa è successo? Ma avevo trovato la chiave ma perché mi hai portato indietro? Ma avevo la chiave imbecille! Apri sta porta va! Ma che cacchio! Amico hai casa rotta! Ti manca un mattone qui! Non so se te ne eri reso conto Ma c'è! Mi ha aperto una porta che... C'è boh! Non c'è niente! Ah no! C'è una palla! Ma posso prenderla? Ah no! E' un martello! Siamo diventati Thor! Posso spaccare qualcosa? Ditemi di sì! Non vedo l'ora! Ah! Posso spaccare quel muro! Ma perché? Ma è casa tua! Ma cosa stai facendo? E mi rimanda indietro! Perché mi hai rimandato indietro? Cosa sono sti suoni? Ho paura! Cosa sono sti suoni? E perché non c'è niente in sta cosa? No 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 no! No 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 no! E dov'è il mio martello? Cioè mi avete fatto spaccare casa mia? E alla fine non devo far niente? Ma veramente? Guardate è tutto vuoto! E' completamente vuoto! Oh shit! Cos'è sto coso? Ma che cacchio sto guardando? Ma che è? Ma che cacchio è? Oh! Un lampadario? Oh mio dio! Cioè io devo continuare a fare selfie Per andare avanti boh! Oh! Che cacchio è successo? Basta però rimandarmi sempre qui! Hai rotto! E adesso non posso più muovermi! Grazie! Posso solo fare flash! Che bello! Ma non me ne frega di sti folli! Eh! Ecco! Si è bugato il gioco! Non posso più muovermi! Eh! Si è bugato il gioco! Ciao! What the fuck! Si è bugato tutto! Ops! Ops!